Puntuale anche questa domenica arriva la nostra chiacchierata radiofonica con il dottor Giuseppe Raffa, pedagogista e coordinatore ambulatorio antibullismi all'ASPO di Ragusa. Al microfono del direttore Piero Giunta e il dottor Raffa oggi affronta un argomento quanto mai attuale che coinvolge i giovani e la scuola. Ascoltiamo cosa da dirci il dottor Giuseppe Raffa. Dottor Giuseppe Raffa, qual è oggi la sua riflessione ai nostri microfoni? Di cosa ci parla? Il covid ha causato lutti, cancellato posti di lavoro, cambiato abitudini, messo da parte una bella fetta del futuro dei giovani che stanno molto male. Ne parlo e ne scrivo da oltre due anni. Per una parte la politica, l'attuale disagio giovanile, va affrontato esclusivamente con la psicologia, cioè col bonus psicologo di 50 milioni, bocciato però dal governo. Miglior sorte, diciamo così, è toccata alla proposta dello psicologo nelle scuole che però ha subito il taglio da 120 a 50 milioni. Ed è di questi giorni la proposta di legge di introdurre nelle scuole lo studio delle competenze cosiddette non cognitive, le life skills, cioè quelle capacità di autocontrollo, di empatia, di resilienza e di stabilità emotiva. Un qualcosa di abbastanza strano, visto e considerato che tali capacità devono comunque partire dalla famiglia e poi, perché no, essere apprese ovviamente a scuola. Insomma, io ci vedo un nuovo tentativo di certa politica di voler risolvere l'attuale grave epocale disagio giovanile esclusivamente un unico canale, quello psicologo, con lo psicologo nelle scuole. Un nuovo tentativo, stavolta maldestro, di non prendere in considerazione il ruolo professionale del pedagogista. L'attuale crisi che adesso sta sovrastando il mondo giovanile è prima di tutto educativa, poi psicologico. Certe criticità di oggi hanno radici lontane, il Covid le ha acuite e fatte galoppare. Tutto è cominciato con l'abbandono educativo dei genitori che hanno dismesso di educare i figli in epoca pre-pandemica, i quali hanno cominciato poi a crescere soli e senza punti di riferimento, con i risultati che già prima della Covid erano sotto gli occhi di tutti. Dopo il primo tradimento educativo, chiamiamolo così, ecco spuntarne un altro, quello della scuola, che in epoca pandemica ha finito di essere autorevole e naturalmente rassicurante. Insomma, un doppio tradimento, così lo hanno vissuto i giovani, che ha generato in loro i comportamenti aggressivi, autolesionistici e certamente fuori dalle righe di cui stiamo parlando da anni. Lo psicologo serve, ci mancherebbe altro, ma fino a un certo punto serve, a mio giudizio, anche, forse direi soprattutto, il ruolo del pedagogista per consegnare alle famiglie le nuove abilità pedagogiche e tecnologiche per tornare soprattutto ad educare i loro figli. Ringrazio il dottor Giuseppe Raffa, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.